Sono Nieta Condemide Felice, vivo a Nuoro, mi occupo di ricerca e sperimentazione tessile da oltre 40 anni. In questa mostra presento un'installazione, questa installazione è composta da tanti piccoli quadretti che contengono una tela dipinta e dei fili. In questi fili sono adagiati degli uccellini votivi, sono degli uccellini che vengono fatti a Dorune durante la festa della Madonna della Consolata, Sospuzonedos de Succosulu, che è anche il nome della mia installazione, gli uccellini della Consolata appunto. Le altre opere che presento sono delle composizioni di mustras. Le mustras sono i disegni tradizionali dei nostri tappeti, dei panni del pane, che io ho tessuto con un nastro particolare, un nastro di PVC. Questo nastro nero risalta le texture e anche in queste composizioni viene adagiato un puzzonedu.